Buonasera ragazzi, buonasera a te, siamo in finale, una strama fatta contenta del momento Grazie a lui, e domenica la festa sarà comanda, grazie al bambinello qua, finalmente tutti sanno mettere l'anima bacio, il giocatore attualmente ancora più forte del pianeta Però è tutto in modo ben giocupone, speriamo, 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 c'è una semifinale proprio la festa della Croazia come si è reso proprio, si è dichiarato, siete più forti, lasciamo sto, senza fare una discussione, senza una nufalle, senza niente, l'andrata mano più forte ma questo è il calcio vero, questo è il calcio vero Non è, 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 non è Tu mi stai invitando a carne e macchierò, ma Messi, quello che ha fatto stasera può fare una partita, la farà sicuramente domenica, posso fare questa di binta partita, dopo aver il mio consiglio di chitario di appendere le scarpe, ridilassare e fare la grande pure, viste che i cucchi e i rano stanno facendo quella come hanno finito lì nell'amnesso Pallate poco Pallate poco perchè, ai, i non ci visti ne poco, ho sato un dava ne poco, ho sato, eh Amore, si muovete, vieni, guarda a MES, perenn'AMMES viene ammaratura, perenn'AMMARATURA viene una nave Vare, si, raga, che giocatore è? Che giocatore è i guavo lautari qua, i guai tu li ma quando hai detto mamma a partire quando hai detto mamma a partire ma non stanno commentando quando hai detto mamma a partire ma non stanno è andato sempre così in Mondiola l'Italia stiamo coppando all'aereo stiamo venendo in un'auto boh hanno vincito ma stiamo messando a Moreno ma che stiamo a Moreno? c'è il suo sport più bello Romano signor è più forte che gli ha dice sì, più forte e basta ho trovato tutti questi magagnetti e va bene, è andato via l'ora no, non c'è questo non c'è nessuno non c'è nessuno l'ha gestito l'ha gestito l'ha gestito con la Francia non c'è la Francia vieni non c'è nessuno ma chi vengono le partite e vengono solo assi, come quella che te non ha qua non puoi pretendere che puoi fare la partita così fisicamente sta messo male non ci vengono 30 e cinque parelli lo voglio sfrutta le sue energie sfrutta le sue energie quando c'ha sfrutta quella da te come pulissimo ma come si fa a criticare un giocatore che per 15 anni è incantato il mondo non lo so non c'è la ruaca in squadra che noi sappiamo non vale siamo in finale muti muti e festeggeremo gli argentini perché gli argentini sono i nostri fratelli via così alle ore 16 ci saremo ci saremo per la reazione come stile perché noi messaggi devo fare un buon allora l'ansia non lo tiene o non lo tiene non devi giocare fino a e basta respiro l'amore respiro l'amore però però parlate seriamente per la carriera che ha fatto messi merita la coppa del mondo è che l'altra coppa del mondo non ho più spalle però ti posso dire un amico stasera per esempio si fanno una coppa e ci arrivano stasera quando fanno 3-0 c'era una bella figura in tutto il mondo perchè quello che aveva combinato soli con quello pallone se l'aveva portato torno per una chile entrata nell'area che ha fatto 3-0 di calciatore in questo caso per tutti i modi ragazzi ci vediamo domenica per la reaction forza gente e forza Napoli sempre ciao ciao ciao